Buongiorno ragazzi, passato sì con la ripregazione. Allora, prima di iniziare, qui c'è il professor Colombo che è autore del libro che voi avete studiato con me in questi due mesi, di cui poi parlerò un attimo. Vi vedo tutta una cosa, lui è rimasto sorpreso dalla quantità di persone che c'è a quest'ora, che c'è alle otto e mezza, dice ma tu li costringi, ragazzi ditegli che vi ho abituati a un metodo democratico. Hai visto? Sono contenti. E poi, questo è il traitario, è una scena orribile questa. E poi assistono a una cosa orrenda, le altre persone. Va bene, va bene ragazzi. Allora, il professor Colombo, del quale vi ho parlato diverse volte durante il corso, collega che gode della mia massima stima, ha scritto molti volumi. In particolare, accennerei a due volumi che secondo me con questo formano una trilogia, cioè una successione logica di discorso che è iniziata più o meno una decina di anni fa con il libro sulla guerra edito dal Mulino, poi ha avuto un'altra tappa. Se non sbaglio nel 2009, con la distruttura del mondo, 2010, sì, con la distruttura del mondo che pure adottai a suo tempo, e adesso questo sulla crisi. Vi consiglio la lettura anche degli altri due volumi, perché formano tutti insieme una riflessione molto importante sui processi della globalizzazione e la sua crisi. la scomposizione, c'è molto l'insistenza su una cosa, la scomposizione dei linguaggi e del, in qualche modo, apparato concettuale che noi abbiamo, ci siamo portati indietro. Questa è una cosa sulla quale abbiamo molto insistito nel corso. Voi vi ricordate? L'analisi delle parole. Ecco, per esempio, la riflessione sulla guerra, che racconta uno dei tre volumi che vi ho citato, il primo volume è il mulino, il secondo è il trinelli, come questo, parte proprio dall'idea di come si sia scomposta l'idea di guerra, di come non corrisponda più ai modelli classici, sul piano del diritto grozio, sul piano dell'analisi fattuale, clauselitz, di come entrambe queste cose non rispondano più. E oggi siamo andati avanti su questa riflessione. Vi ho detto come, rivelatrice in fondo di tutto l'impianto del libro, sono proprio le ultime parole con cui si conclude il libro. L'esaurimento del linguaggio, la difficoltà di trovare parole che descrivano i fenomeni presenti. Bene, magari a partire proprio da questo, io chiederei a Alessandro di illustrare le tesi centrali del suo libro, che sono su quello su cui io vorrei che noi discutessimo, a parte gli scherzi e le battute, sono convinto che ci sarà un certo dibattito, anche perché di solito c'è stato quando io ho detto certe cose, e quindi non ho capito, a me contestate e a lui no, cos'è questo trattamento di riguardo. E quindi ci sarà un certo ragione per cui facciamo così. Io mi limito a questo, tanto del libro vi ho parlato molto durante questo corso, l'abbiamo fortunatamente citato, abbiamo fatto anche tre incontri, sui primi tre capitoli, il quarto non siamo riusciti, con i vostri colleghi che lo illustravano, il che ha dimostrato che poi al di là di un primo aspetto che può avervi disorientato, la forte concettualizzazione, gli esempi dati un po' per scontato, eccetera, però il libro è ampiamente comprensibile, discutibile e utile didatticamente. Quindi la prima impresione, infatti io ricordo delle prime volte, eravate piuttosto disorientati, trovate dura questa lettura, però poi vedo che vi ci siete abituati. Allora, io concludo qui. Adesso darei la parola ad Alessandro Colombo per il tempo che ritiene, ma credo anche la mezz'oretta possa essere sufficiente, dove l'importante è la discussione. Vero ragazzi? Ecco, mi raccomando al solito, e più del solito, niente distrazioni e chiacchierate e niente uscire prima della fine della reazione. Ci siamo capiti? Va bene. Alessandro. Grazie. Allora, per cominciare ringrazio Aldo per questo invito e ringrazio voi a parte gli scherzi per essere così numerosi a quest'ora, mai e poi mai me lo sarei mai vicino. Io credo, come Aldo, che la cosa migliore sia in realtà dibattere con voi, anche perché per me parlare ancora di questo libro è un'esperienza quasi auto-ipnotica. Vi dirò a grandi linee quali sono le tesi fondamentali del libro, ma soprattutto il punto di partenza di questo libro. Noi non soltanto, per la verità, da 5 o 6 anni, da molto di più, viviamo immersi in una sorta di retorica della crisi. Noi parliamo continuamente della crisi, anzi, ci siamo abituati quasi a considerare la crisi come una condizione permanente. Allora, parlare sempre della crisi significa a poco a poco perdere il significato. Il significato non soltanto concettuale, ma anche esistenziale, di che cosa la crisi sia. E in modo particolare, in questo libro, io ho deciso di partire dalla confruttazione, dal tentativo di confruttazione, di tre immagini che abbiamo della crisi, tre associazioni che facciamo. Tanto per cominciare, oggi forse un po' meno che qualche anno fa, ma periodicamente anche oggi, la crisi viene comunemente presentata come una sorta di incidere di percorso, come una perturbazione di un processo storico che per il resto rimane ben definito. Il nostro sistema sociale, il nostro sistema politico, lo stesso sistema internazionale, avrebbe trovato la sua strada. Questa strada è punteggiata di crisi periodiche. Le crisi periodiche sono elementi più o meno traumatici, ma non sono tali da farci deviare dalla strada. La tesi di questo libro è al contrario che la crisi, come è, tra l'altro, anche nel significato originario della parola, sia molto di più di questo, non sia un incidente di percorso, sia una possibilità di cambiare percorso o addirittura di perdere il percorso. All'immagine della crisi come incidente si associa, e non è casuale che si associ, una seconda immagine che è molto diffusa soprattutto nel dibattito pubblico, soprattutto nelle dichiarazioni rassicuranti, inevitabilmente rassicuranti, va detto, degli uomini politici e degli intellettuali che fanno il seguito di questi uomini politici. La seconda immagine è quella della crisi come opportunità. Si dice molto spesso che la crisi è un problema, ma è anche un'opportunità da dover cogliere. Soltanto attraverso la crisi noi possiamo disfarci di certe inerzie. Pensiamo a un paese come il nostro. Negli ultimi anni la crisi è stata presentata periodicamente come una grande opportunità per liberare il paese da energie che in condizioni normali non si libererebbero. Lo stesso va detto e ripetuto anche altrove. Pensiamo a uno dei luoghi per eccellenza della normalità degli ultimi vent'anni, cioè l'Unione Europea. La crisi dell'Unione Europea è stata rappresentata soprattutto all'inizio, in parte anche adesso, come una grande opportunità per l'Unione Europea, tanto che tutti gli intellettuali che ruotano attorno all'Unione Europea si sono affrettati a riscrivere una storia dell'Unione Europea punteggiata di crisi e accelerazioni. Allora, ogni accelerazione del processo di integrazione è stata tradizionalmente associata a una crisi e quindi anche questa crisi finirà con un'accelerazione. Questa è stata l'immagine che per alcuni anni e per certi versi anche adesso viene proposta come elemento fondamentale di rassicurazione. E poi legata a questa idea della crisi come opportunità c'è una terza immagine, anche in questo caso tutt'altro che casuale, anzi simbioticamente legata alle altre due, e cioè la crisi vista come innovazione. Si dice che a differenza dei tempi normali, a differenza della politica di routine, a differenza anche perché no del dibattito pubblico di routine, la crisi sia un momento innovativo, innovativo nei linguaggi, innovativo nella capacità di adeguare immediatamente le nostre categorie ai tempi che cambiano. Allora, si dice che la crisi ci dà l'opportunità di riorientarci, quindi non perdiamo la strada, ci liberiamo delle inerzie e per di più siamo in grado virtuosamente di cambiare. Come cambiare? Ma tanto per cominciare adattando il nostro modo di parlare, adattando le categorie politiche e giuridiche che siamo abituati ad impiegare. in altre parole la crisi è vista come un grande processo creativo. Questa immagine della crisi come processo creativo è saltamente iscritta come sapete anche della storia delle scienze sociali euro-occidentali degli ultimi 150 anni. Allora, questo è il punto di partenza. Partire da queste tre immagini consolatorie e cercare di ribaltarle. Ribaltandole, e qui arriviamo invece alle tesi, anche se ve le dirò in modo un po' schematico, a rischio anche di dirle in modo caricaturale, il primo punto credo che oggi sia sempre più comune per la verità riconoscerlo, il primo punto sul quale insisto in questo libro è il fatto che noi viviamo in un contesto storico che in modo appariscente vive una successione di crisi diverse e per crisi diverse intendo diverse da tutti i punti di vista, diverse tanto per cominciare per la dimensione che investono. Noi viviamo nel pieno di una grande crisi economica che almeno in Europa non finisce affatto ma per le conseguenze sociali non finisce neanche altrove, neppure negli Stati Uniti. Noi viviamo una serie di crisi diplomatico strategica internazionale pensiamo soltanto a quest'anno una specie di calvario diplomatico 2014 la crisi ucraina è quello che sta avvenendo tra Siria e Iraq abbiamo vissuto negli ultimi vent'anni una serie continua di crisi che hanno richiesto o almeno hanno posto la questione dell'intervento internazionale qualche volta c'è stato altre volte no quindi crisi diverse per la dimensione che investono alcune investono economica altre investono una dimensione diplomatica e militare crisi diverse per il loro orizzonte geografico geopolitico non siamo più all'epoca del bipolarismo non siamo neanche più all'epoca della prima metà del novecento per tutto il novecento le grandi crisi internazionali sono state crisi potenzialmente globali la crisi di Cuba era una crisi automaticamente globale nell'attuale contesto storico noi viviamo crisi che avvengono in un luogo e che hanno ripercussioni molto diverse negli altri luoghi noi non rischiamo più non temiamo più una grande guerra globale non esiste una guerra globale oggi né probabilmente esisterà nei prossimi anni questa è l'unica credo buona notizia ma per tutto il resto noi abbiamo una serie di crisi che rischiano di sfociare in guerre e che hanno una dimensione prevalentemente regionale quindi sono diverse anche per questa ragione allora la tesi del libro è che nonostante tutte queste diversità nonostante questa eterogeneità nella natura e nella geografia e nella geografia delle crisi tutte le crisi dell'attuale momento storico siano in qualche modo collegate tra loro che non toglie niente al fatto che le crisi hanno posti in gioco diverso che non toglie niente al fatto che le crisi abbiano protagonisti diversi e che non toglie niente neppure al fatto che le crisi abbiano pericolosità molto diverse tra loro ma tutte queste crisi sono almeno in qualche cosa collegate tra di loro e questo qualche cosa che legherebbe tutte le crisi tra loro è per l'appunto una crisi generale dell'ordine internazionale e crisi generale dell'ordine internazionale non significa soltanto crisi delle relazioni politico-diplomatiche esterne tra gli stati crisi generale dell'ordine internazionale significa anche crisi politica giuridica e sociale degli stati al loro interno perché la separazione tra politica interna e politica internazionale è tanto più solida quanto più solido è l'ordine ma quando voi vedete crollare l'ordine quando voi vedete le grandi fasi di sommovimento nel libro si parla soprattutto di due grandi fasi precedenti alla nostra 1848 e la fase che segue la rivoluzione bolshevica del novecento allora anche in quelle fasi storiche la differenza tra interno e internazionale viene meno la differenza tra interno e internazionale è un prodotto politico-giuridico e nel momento in cui il castello politico-giuridico della nostra nozione di ordine viene scosso e viene scossa anche la distinzione e allora i conflitti internazionali penetrano nelle giurisdizioni interne e i conflitti interni diventano conflitti internazionali allora da dove viene questa crisi dell'ordine perché viviamo una crisi generale dell'ordine crisi generale significa per l'appunto crisi che investe contemporaneamente tutte le dimensioni e che investe soprattutto la nostra capacità di distinguere tra le diverse dimensioni ma a tal lato c'è uno sfondo che probabilmente è uno sfondo più importante la vera ragione della crisi credo che sia in questo sfondo anche se alla fine il libro ha finito per concentrarsi su altri aspetti e lo sfondo è il fatto che ben noto che il nostro ordine internazionale la nostra nozione di ordine internazionale tutte le categorie che usiamo a cominciare da quella dalla quale abbiamo fatto riferimento qualche minuto fa cioè la distinzione tra politica interna e politica internazionale tutte le nostre categorie hanno un carattere moderno sono il prodotto di un'evoluzione storica che sostanzialmente va dal 500 fino al 900 e sono il prodotto in modo particolare di due centralità che oggi sono a dire poco problematiche quando noi parliamo di politica internazionale moderna quando noi parliamo di diritto internazionale moderno quando noi parliamo oggi si usa sempre più spesso questa espressione di sistema internazionale vestfaliano queste tre cose sostanzialmente sono accomunate da due grandi centralità che cos'era il sistema vestaliano che cos'è la politica internazionale moderna che cos'è lo just publicum europeum di Karl Schmitt ma sostanzialmente due cose tante altre ma due accenti tanto per cominciare un sistema politico-giuridico centrato sullo Stato lo Stato è la creatura fondamentale della nostra nozione di ordine che significa che tutte le nostre categorie politico-giuridiche presuppongono lo Stato e non hanno senso al di fuori dello Stato politica interna e politica internazionale l'idea del confine la nostra stessa idea di cittadinanza ma la nostra stessa retorica europea del superamento dei confini o di Schengen Schengen non è così straordinario se non presupponiamo lo Stato come punto di partenza allora il moderno è tanto per cominciare dominato da un artefatto politico-giuridico che è lo Stato e che ha costituito il centro del nostro modo di praticare e concepire la politica di diritto internazionale ma il moderno non è soltanto questo naturalmente l'altro elemento centrale del nostro modello di ordine che ce ne ricordiamo oppure no ma dobbiamo ricordarcene anche per comprendere le angosce attuali dell'Europa l'altro elemento centrale è stata la centralità europea occidentale dire che il modello vestagliano è solo centralità dello Stato significa perdersi la cosa più importante cioè che lo Stato era Stato europeo e che il sistema internazionale moderno è stato costruito fino a pochi decenni fa su questa centralità presupponendo questa centralità e non discutendo mai questa centralità allora è qui la radice dello scossone principale all'ordine interno e internazionale che stiamo vivendo in questi anni e che in realtà abbiamo cominciato a vivere da alcuni decenni tutte e due queste centralità la centralità dello Stato e la centralità dell'Occidente per ragioni diverse con tempi diversi con modalità diverse sono entrate in crisi o quantomeno sono diventate problematiche e a questo si aggiunge un aspetto più superficiale della crisi dell'ordine che è l'aspetto sul quale ho deciso in realtà di concentrarmi di più non perché sia il più importante ma perché tornando a parlare dell'altro aspetto del libro cioè l'aspetto delle retoriche quindi non soltanto dei processi storici ma delle retoriche che li accompagnano è il pezzo dell'ordine che è stato al centro delle retoriche degli ultimi 25 anni e negli ultimi 25 anni come sempre nei dopoguerra noi non dimentichiamocelo stiamo vivendo un dopoguerra fallito sostanzialmente il dopoguerra fredda è un dopoguerra fallito cioè un dopoguerra che non è riuscito a creare un modello di ordine alternativo allora come in tutti i dopoguerra il problema dell'ordine si pone come problema centrale la prima cosa che si fa dopo le grandi guerre generali guerra napoleoni che prima guerra mondiale seconda guerra mondiale guerra fredda anche la guerra fredda a suo modo è stata una guerra generale anche se non combattuta la prima cosa che si fa dopo tutte queste guerre generali è mettere mano a loro e non è casuale è il momento giusto perché c'è un soggetto o per meglio dire c'è un gruppo di soggetti che ha appena vinto e quindi ha il potere di farlo e poi è il momento giusto perché la guerra viene vissuta in qualche modo come un fallimento dell'ordine precedente l'ordine post bellico non può essere come l'ordine pre bellico perché l'ordine pre bellico ha dato un esito che non vogliamo che sia ripetuto e allora il libro vive un confronto nell'ultima parte ma è verità è un confronto sottinteso anche nelle parti precedenti con quella che anche dal punto di vista personale ricordo come la retorica con la quale ho cominciato da fare questo mestiere cioè la retorica dell'inizio degli anni 90 cioè la retorica del nuovo ordine internazionale la retorica del trionfalismo degli anni 90 perché noi siamo soltanto 20 anni più tardi ma il clima culturale le rappresentazioni del mondo le aspettative sul futuro si sono letteralmente ribaltate in 20 anni gli anni 90 sono stato probabilmente l'apice dell'euforia e anche per certi versi dell'ottusità ideologica che io ricordo e di che cosa era fatto quel modello di ordine internazionale e di che cosa è fatta quindi la crisi colossale che stiamo vivendo di questo modello ma tanto per cominciare quel modello di ordine internazionale era un modello non uso per caso questo avverbio confortevolmente gerarchico confortevolmente perché il carattere strettamente gerarchico dell'ordine internazionale post bellico degli anni 90 avrebbe dovuto costituire il suo segreto di funzionamento l'ordine internazionale degli anni 90 era un ordine nel quale i ruoli erano chiaramente definiti non ci poteva essere competizione su chi avesse il diritto o il potere di entrare nella cabina di comando la cabina di comando era stata appena costituita ed era naturalmente costituita dal paese più forte quello che ha appena vinto la guerra cioè gli Stati Uniti dai suoi alleati tradizionali i paesi europei prima di tutto la Nato come traduzione istituzionale di questo rapporto e poi anche tutti gli altri che gli anni 90 furono un decennio di corsa sul carro degli Stati Uniti per l'ovvia ragione che non c'erano carri alternativi e anche chi decise di non correre sul carro degli Stati Uniti si guardò bene dall'ostacolare a quel carro penso alla Federazione russa penso alla Cina già allora non vedevano con favore questo modello di ordine internazionale ma allora non erano in condizione di controbilanciarlo neppure in modo leggero come si dice oggi allora il modello gerartico significava un modello improntato alle pratiche alle quali ci siamo abituati almeno fino a pochi anni fa la pratica dell'interventismo è la grande stagione degli interventi internazionali umanitari militari o militari o umanitari è la pratica delle sanzioni gli anni 90 sono la grande stagione delle sanzioni non solo le sanzioni mirate che vedete adesso ma anche sanzioni di tipo classicamente terroristico come le sanzioni contro l'Iraq nel corso degli anni 90 il carattere gerarchico dell'ordine internazionale qui arriviamo quasi fino a oggi significava in quel contesto storico un altissimo grado di penetrazione dell'ordine internazionale negli ordini interni il tema della transizione al mercato e alla democrazia le politiche di condizionalità degli aiuti la stessa politica di allargamento dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica viste come politiche di riconoscimento e di progressivo premio alla transizione il riconoscimento esplicito non implicito nella National Security Strategy degli Stati Uniti del 2002 del regime change cioè del cambio armato del regime degli avversari come capitolo della politica estera degli Stati Uniti la realizzazione di questa concezione nella guerra contro l'Iraq del 2003 la ripetizione di questa concezione nella guerra contro la Libia del 2011 un ordine internazionale gerarchico che sostanzialmente si faceva a carico non soltanto delle relazioni esterne tra gli attori ma della loro stessa configurazione interna secondo punto secondo elemento e qui vediamo non soltanto le pratiche ancora una volta ma tutte le nostre retoriche nessuno escluso l'ordine internazionale il nuovo ordine internazionale si è presentato anche in questa facoltà credo che più o meno il 90% di quello che studiate sia dedicato a questo si è presentato come un ordine internazionale democratico democratico significava dovrebbe significare tanto per cominciare che il segreto di funzionamento dell'ordine internazionale sta non in una buona prassi delle relazioni esterne tra gli stati ma in una virtuosa transizione interna alla democrazia è la stessa scienza politica la stessa politica comparata da alcuni anni a questa parte e si occupano prevalentemente di transizione alla democrazia democratico significava che sin dall'inizio degli anni 90 e fino a che ha funzionato il meccanismo anche più tardi l'ordine internazionale si presentava come un ordine internazionale esplicitamente discriminante cioè un ordine internazionale nel quale le democrazie avrebbero dovuto avere ruoli e diritti diversi da quelli di tutti gli altri stati un ordine internazionale nel quale la soglia di accesso potremmo dire alla piena appartenenza alla comunità internazionale avrebbe dovuto essere elevata non più soltanto la statualità ma la statualità democratica un ordine internazionale pensiamo alla guerra in Kosovo del 1999 nel quale le crisi internazionali e sarebbero state gestite in esclusiva dai paesi democratici anche contro il parere degli altri e persino contro il parere del diritto dell'organizzazione internazionale gerarchia democrazia il terzo pezzo il terzo elemento di funzionamento ma anche il terzo pezzo delle nostre retoriche l'ordine internazionale si presentava come un ordine universale cioè come un ordine internazionale che avrebbe dovuto stendersi letteralmente con tutta la sua virtuosità e con tutto il suo potere su tutte le aree regionali nello stesso modo la transizione della democrazia avrebbe dovuto essere globale quando il modello di ordine fu rovesciato e militarizzato dopo l'11 settembre all'idea della transizione globale alla democrazia e al mercato fu sostituita l'idea della guerra globale al terror due vicende molto diverse naturalmente ma due vicende accomunate dalla cosa più importante cioè la globalità e poi per ultimo non dimentichiamocelo l'altra parola magica degli ultimi 25 anni l'ordine internazionale degli anni 90 si presentava non soltanto come un ordine gerardico ma non casualmente proprio perché gerardico anche fortemente istituzionalizzato le istituzioni democrazia universalità istituzioni le istituzioni avrebbero dovuto essere il grande ammortizzatore sociale e giuridico della differenza di potere negli anni 90 ci si immaginava quello che in realtà avvenne soltanto nel 1991 in occasione della guerra contro l'Iraq e cioè una perfetta collaborazione che era anche una perfetta subordinazione delle organizzazioni internazionali rispetto ai paesi vincitori della guerra fredda il ruolo delle istituzioni venne presentato come un ruolo di ammortizzatore in realtà dall'inizio fu un ruolo di moltiplicatore le istituzioni internazionali servirono a legittimare sostanzialmente lo strapotere dei più forti allora tutto questo meccanismo si è sfasciato il modello confortevolmente gerarchico si è complicato per effetto di una ridistribuzione sempre più evidente del potere del prestigio internazionale oggi la distribuzione del potere internazionale non somiglia più a quella dell'inizio degli anni 90 ci sono grandi potenzi in ascesa pensate alla Cina gli alleati più stretti degli Stati Uniti cioè i paesi europei sono in crisi disperante gli stessi Stati Uniti hanno perso una parte del proprio potere ma soprattutto hanno perso una parte considerevole della propria disponibilità e della propria capacità di impiegarlo pensate allo stato quasi tesolante della politica estraamericana degli ultimi anni oggi noi parliamo di Barack Obama è possibile che il bilancio in politica estra di Barack Obama debba essere definito un bilancio fallimentare ma non dimentichiamoci che questo bilancio fallimentare viene dopo altri 8 anni di bilancio fallimentare di amministrazione Bush quindi in questo caso noi avremo 16 anni di bilancio fallimentare della politica estra del paese più forte che è una catastrofe per il paese più forte ma è una catastrofe anche per tutti gli altri la democrazia ieri è venuto il nuovo satrapo egiziano a venire ad essere sostanzialmente ringraziato per aver instaurato un regime autoritario sulla sponda sud mediterranea gli Stati Uniti e i paesi europei hanno totalmente rinunciato alla retorica della transizione alla democrazia anzi gli Stati Uniti e i paesi europei sono tornati ad avere una vera e propria passione per il regime autoritario non solo l'idea che funzionò ancora negli anni 90 di poter gestire le crisi internazionali in modo virtuoso tra paesi virtuosi la guerra del Kosovo del 1999 è stata totalmente spazzata via oggi siamo perfettamente consapevoli lo sono anche gli Stati Uniti che non è possibile gestire la crisi economica internazionale senza sentire la Cina che non è possibile gestire la crisi in Ucraina senza sentire la Russia che non è possibile gestire la crisi in Iraq e in Siria senza sentire l'Iran in altre parole il nostro modello di ordine internazionale sta tornando a essere molto meno ambizioso molto meno puro se volete molto meno coerente di quello che aveva sognato di essere all'inizio degli anni 90 e lo stesso vale per gli ultimi due pezzi l'universalità oggi noi viviamo una scomposizione su questo non voglio tornare ma una scomposizione sempre più evidente del sistema internazionale in aree regionali sempre più lontane l'una dall'altra il conflitto ucraino e il conflitto in Siria in Iraq non hanno niente in comune nel novecento avrebbero avuto qualche cosa in comune quantomeno il fatto che ci sarebbe stata la presenza diplomatica degli stessi attori e quantomeno il fatto che ciascuno di quei due conflitti avrebbe rischiato di innescare una competizione generale al contrario abbiamo una serie di aree regionali che vanno in direzioni sempre più diverse e se le aree regionali vanno in direzioni sempre più diverse pensare di impiegare in tutte le aree regionali la stessa chiave di lettura o la stessa chiave di intervento significa condannarsi al suicidio diplomatico e strategico e poi per ultimo lo stato miserevole delle istituzioni internazionali e oggi noi parliamo di istituzioni internazionali come non ci saremmo mai immaginati di parlare all'inizio degli anni 90 quello che hanno in comune oggi le istituzioni internazionali tutte nessuna esclusa è il fatto di vivere una profonda crisi dalla quale non siamo sicuri che riusciranno a uscire e questo vale anche per l'Unione Europea e questo vale nonostante ciò che qualcuno potrebbe immaginarsi anche per la stessa Nato il tentativo di rilanciare la Nato in funzione antirussa è un tentativo storicamente miserabile non si può pensare di rilanciare la Nato nel 2014 con la stessa ragione d'essere della Nato del 1949 il fatto che la Nato stia pensando persino a questo la dice lunga sul fatto che la Nato sta vivendo come tutte le altre istituzioni internazionali è una crisi di identità allora volevo dire altro ma non voglio rubare il tempo aggiungo qualche cosa sul tema del linguaggio queste sono le ragioni e le dimensioni della crisi ma come vi dicevo prima l'altro elemento l'atto filo rosso di questo libro in realtà diceva giustamente Ado anche nelle riflessioni di altri libri in precedenza è il fatto che questa crisi non è affatto come si dice così come non sono state in passato altre crisi non è affatto un momento di innovazione di linguaggi una crisi di questa portata è una crisi che mette i nostri linguaggi e le categorie politico-giuridiche di cui sono fatti alla prova della loro inadeguatezza la prima cosa che noi scopriamo davanti alla crisi è il fatto di non avere linguaggi adeguati perché la prima cosa che facciamo di fronte a una crisi è di fronte all'urgenza della crisi perché è l'urgenza che conta nella crisi la prima cosa che facciamo di fronte a una crisi urgente tutte le crisi sono urgenti è attingere ai linguaggi di cui disponiamo già noi non abbiamo tempo guardiamo il dibattito politico non soltanto in Italia non facciamo l'errore di pensare che in Italia viviamo un delirio mentre negli altri paesi si vive la grande stagione della democrazia occidentale non è affatto così guardiamo la qualità del dibattito pubblico in Italia e negli altri paesi il carattere disperante di questa qualità del dibattito pubblico è il fatto che questo dibattito pubblico vive sulla ripetizione ma sulla ripetizione di cose di parole di categorie che non prendono più la realtà restando per adesso alle cose di cui mi occupo di più cioè alla politica internazionale pensiamo proprio a quello che ha evocato Aldo all'inizio della lezione cioè alle due nozioni che comunemente vengono poste al centro del nostro modo di comprendere e anche valutare politicamente la politica internazionale cioè la nozione di pace e la nozione di guerra io ogni anno all'inizio del corso di relazioni internazionali dico farei fatica a definire la materia di cui mi occupo ma se dovessi proprio definirla in due parole direi che le relazioni internazionali intese come relazioni politiche internazionali sono lo studio della relazione tra pace e guerra lo studio della relazione tra pace e guerra presuppone il fatto che noi sappiamo che cosa sia la pace che cosa sia la guerra e per tutto l'ottocento e ancora per un buon pezzo del novecento tanti giuristi quanti militari quanti diplomatici quanto i cittadini e non avrebbero avuto troppe esitazioni a definire la pace e a definire la guerra lo avrebbero fatto con diverse capacità lo avrebbero fatto da diverse prospettive ma pace e guerra erano chiaramente definite cioè chiaramente separabili sia dal punto di vista concettuale sia, ed è la cosa più importante dal punto di vista esperienziale non c'era bisogno di essere giuristi non c'era bisogno di essere diplomatici per sapere quando si era in pace e quando si era in guerra e dove si era in pace e dove si era in guerra oggi viviamo una condizione storica che si è andata progressivamente accumulando nel corso della seconda metà del novecento una condizione nella quale la distinzione tra pace e guerra è andata totalmente scoparente e questo è un elemento che ricordo da qualche mese a questa parte perché è molto significativo e in uno degli ultimi documenti ufficiali del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti gli Stati Uniti cioè il paese più importante non il paese più forte non semplicemente il paese più forte ma il paese che si erge a custode dell'ordine internazionale allora il paese che si erge a custode dell'ordine internazionale riconosce in questo documento e cito più o meno letteralmente che all'inizio del ventunesimo secolo la distinzione tra pace e guerra è sostanzialmente venuta a meno allora dire che la distinzione tra pace e guerra è venuta a meno significa dire implicitamente che parlare di ordine internazionale significa fare una cosa impudente perché non ci può essere ordine internazionale laddove non c'è almeno una chiara distinzione dalla pace e da guerra noi dobbiamo sapere in anticipo dove possiamo essere in pace perché se non sappiamo in anticipo dove possiamo essere in pace noi potenzialmente siamo in guerra ovunque e concludo proprio sulla crisi la crisi degli ultimi anni le crisi politiche le crisi economiche la crisi non ha affatto prodotto innovazioni la crisi ha prodotto scrivo del libro una mobilitazione generale delle frasi fatte mobilitazione generale delle frasi fatte significa che noi non riusciamo a parlare della crisi di oggi senza a recitare le parti e attingere alle parole delle crisi di qualche decennio fa ma pensiamo alla retorica della nuova guerra fredda con la federazione russa pensiamo alla continua riduzione di Hitler di tutti i nemici che ci vengono incontro pensiamo a nozioni disperanti come quella del fascismo islamico noi non capiamo niente e non capendo niente cerchiamo agganci nelle cose che capivamo ma che non hanno più alcun senso oggi io ti darei grazie allora dopo però prima di tutto cominciamo da voi vabbè oggi allora arrivo subito oggi non facciamo l'intervallo per ovvie ragioni magari finiamo qualche minuto prima noi avevo iniziati di consentire una sigaretta di mezza cosa sì ma oggi lo saltiamo magari finiamo qualche minuto prima allora Martino prendi gli interventi c'è già Andronaco poi facciamo questo primo blocco nel frattempo gli altri si preparino va bene allora comincio a chiamare Andronaco si buongiorno in un'organizzazione importante complessa come l'ONU dove comunque c'è l'America come diceva prima che fa da garante un po' per tutti uno stato osservatore come lo stato del Vaticano che ruolo ha che peso ha quante divisioni è il Papa Carolina questa cosa l'ho già sentita facciamo una raccolta e poi rispondo e per oggi Giuseppe si sbagliava forza avevo una domanda rispetto allo stato d'eccezione cioè se esiste una struttura normativa comunque un'organizzazione di sostituzioni tale da non dover impicare per forza uno stato d'eccezione per far conto ad una crisi per far conto ad una crisi e pensando all'esempio che ti fa nel libro cioè quello in cui c'è una repubblica quella romana e lo stato d'eccezione implica una dittatura nel caso invece in cui la dittatura ci sia già e anzi abbia posto questa le basi per una crisi cosa ti fa? Tommaggio io volevo ricollegarmi anche in parte al discorso dei termini al discorso dei termini che sono prelegati quindi praticamente io mi chiedevo se lo studio delle crisi passate fosse abbastanza fine a se stessa nel tentativo di cercare di risolvere una crisi di Erman Simone Filippini lei ha parlato prima dell'impossibilità di una guerra globale ma all'interno di una crisi globale un accatenamento di crisi com'è possibile non essere sempre in guerra? Alessandra allora io volevo ricollegarmi anche una del linguaggio lei dice che in un periodo di crisi risulta inadeguato appunto inaugurato questo linguaggio e conduce poco un'ora all'apasia nel tempo la mia domanda è se è possibile visto che non è possibile fare una rivoluzione con questo linguaggio inadeguato se è possibile una rivoluzione di linguaggio prima della fine della crisi e se può avvenire partendo da ragionare in termini della complessità ho segnato un Davide ma ci pensiamo di garci io volevo chiedere c'è il peso di un po' il peso anche che ha l'economia cioè il modello neoliberista all'interno dei processi anche degli Stati Uniti che spesso che ormai il mondo si è adattato un po' ha accettato ormai di di assumere questo modello come importante trenante anche in contesti culturali diversi dove magari hanno una tradizione diversa e quanto gli Stati Uniti restano quindi a trarne vantaggio da internazionale internazionale anche dalle guerre che portano Marretina io invece a proposito del linguaggio a proposito del linguaggio mi stavo chiedendo se nel momento in cui si verifica un logoramento del linguaggio dei decisori allo stesso tempo non avviene uno stesso logoramento in quelle che possono essere le risposte dei cittadini se quindi i cittadini stessi nel voler rispondere alla crisi magari dicendo evocando parole come sciopero rivoluzione non si richiamano loro stessi ad un'esperienza del passato che non può essere applicata comunque nel presente ancora dove fai io? si sono tantissimi Nicola? io mi collego anche alla domanda di prima nel senso ho letto un articolo su quello dell'altro giorno che parlava dello scopo del conflitto in Italia nelle ultime le medie tra i fatti di torsapienza gli immigrati contro i cittadini o l'attacco alle sedi di partito ai leader politici o i conflitti che stanno scoppiando nelle periferie per tutti i sgomberi adesso c'è una serie di cose che fanno pensare allo scopo di conflitto non viene organizzata in realtà ma che denuncia malcontento di fur e appunto l'articolo si apre appunto con un articolo molto discutibile però si apre con ci sono stupiti che la crisi non abbia prodotto conflittualità sociale negli ultimi anni ecco la domanda cioè anche anche il fatto che nelle elezioni in Calabria e in Emilia Romagna c'è stato un tasso di estensione del 60-70% cioè vale ancora la dichiarazione di Douglas che la risposta più sentita la gente sarà sempre in accordo con i pensieri istituzionali oppure si tratta sempre di rivolto in formi quelle che stiamo vivendo adesso oppure diciamo un punto di rottura anche collegandosi alle ultime tre Cristina l'ultima politica io volevo chiedere se è d'accordo a pensare che usano tutti l'interesse ad avere un alleato come l'Europa fragile ed in crisi e penso nello specifico alla questione molto complessa a livello di media del TTP beh ti inizio e poi facciamo un secondo cibo lo so ti fanno lavorare lo so non faccio fatica anche perché sono domande pensa a me per cui inizio sono domande molto molto ricche e dal mio punto di vista questo è il problema principale molto etiologene quindi le risposte non potranno essere particolarmente organizzate io comincio proprio dalla prima quella sul Vaticano sulla quale sarò anche un po' più breve il Vaticano il Vaticano conta 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 per diverse ragioni comincio dalla prima io credo che sia di grande importanza oggi molto più di quanto non sia stata per esempio nel corso del novecento non perché già nel novecento non contasse sia ben chiaro ma perché in questo caso c'è un vuoto il novecento è stato un secolo saturo di universalismo è stato un secolo dominato dal conflitto tra universalismi in modo particolare dominato dall'universalismo democratico liberale da un lato e da quello socialista e comunista dall'altro dopo la fine del novecento con la fine del bipolarismo che è stata la fine del novecento noi oggi disponiamo di un solo universalismo politico attivo che è quello democratico liberale espresso dagli Stati Uniti ma anche dai paesi europei ecco il Vaticano è un soggetto che non dispone di divisioni ma che dispone di universalismo il Vaticano parla un linguaggio universale e parlando un linguaggio universale anche se da una posizione diplomatica strategica irrilevante ma riesce a sfidare altro linguaggio universale e lo ha fatto periodicamente devo dire il Vaticano si è trovato spesso in rotta di collisione con gli Stati Uniti negli ultimi 25 anni e non credo affatto che sia casuale proprio perché si pongono su uno stesso piano di universalità ricordo una cosa perché su questo come su tante altre cose l'informazione la stampa il mondo intellettuale che ormai davvero è meglio non giudicare stanno operando una congiura del silenzio allora da alcuni anni a questa parte da alcuni mesi a questa parte in occasione soprattutto della grande ondata jihadista in Siria e in Iraq ci si sta scandalizzando per la sorte delle comunità cristiane in Medio Oriente questa era precisamente la ragione per la quale tra il 1990 e il 1991 il Vaticano unico soggetto nella politica internazionale disse no alla guerra contro l'Iran nel 1991 il Vaticano nel 1990 al 1991 disse se gli Stati Uniti fanno questa guerra la sorte delle comunità cristiane in Medio Oriente sarà pregiudicata per sempre questo era l'esito inevitabile questo è stato l'esito chi ha voluto quella guerra e tutte le guerre successive fa finta di non avere responsabilità sull'esito di questa coesistenza che è saltata completamente chi ha condotto guerra in barbi negli ultimi 25 anni è il responsabile vero di quello che sta accadendo nel 1990 sullo stato d'eccezione ci sono tentativi continui nel corso del novecento di regolare giuridicamente lo stato d'eccezione il tentativo probabilmente più noto perché era il tentativo più sofisticato di tutti e perché pur essendo più sofisticato di tutti ha dato le conseguenze più terribili di tutti fu il famoso articolo 48 della costruzione di Weimar la costruzione di Weimar è un capolavoro dal punto di vista della costruzione giuridica partecipano tutti i principali giuristi del tempo e i principali giuristi tedeschi del tempo sono i principali giuristi del tempo pensiamo a Hans Kelsen il problema è che lo stato d'eccezione non si fa normale lo stato d'eccezione sfugge e lo stato d'eccezione sfugge non soltanto nel caso dei paesi democratici ma anche nel caso dei paesi autoritari anche i paesi autoritari proclamano i propri stati d'eccezione pensiamo alla legge marziale pensiamo a tutte quelle sorte di accelerazioni del processo di concentrazione autoritaria dei poteri e poi c'è un caso che è un caso ancora più eclatante che è quello dei paesi totalitari per i paesi totalitari si è detto che lo stato d'eccezione è diventata una sorta di stato normale e quindi abbiamo una normalizzazione dell'eccezione così come abbiamo una normalizzazione della guerra civile questo vale per la Germania nazionalsocialista ma questo vale anche per l'unione soviete quindi lo stato d'eccezione non è in qualche modo evitabile così come la crisi non è presto da evitare allora lo studio delle crisi passate non voglio su questo essere frainteso è una delle ragioni delle infinite ragioni che credo creano qualche disaccordo tra me e la maggior parte di miei colleghi che si occupano di discipline simili alla mia io sono convinto che lo studio della storia sia fondamentale sono convinto che sia un disastro che le facoltà di scienze politiche e non solo quelle di scienze politiche stiano smantellando gli studi storici e così come sia un disastro il fatto che le facoltà di scienze politiche smantellino gli studi di filosofia politica o di storia di latina politica studiare la storia non significa pensare che la storia si ripeta ma significa tanto per cominciare capire dare l'attività storica del nostro tempo e ricordarsi ammesso che ci sia bisogno di ricordarsi che tutto nella storia è reversibile compreso quello che ci appare non reversibile e la storia ci serve a questo e credo che questo dobbiamo scolpircelo nella testa continuamente soprattutto in contesti storici come si sono presentati quelli degli ultimi vent'anni che si sono autorappresentati come momenti di contimento della storia sulla guerra globale bisogna intendersi su che cosa sia una guerra globale le guerre globali sono state quelle del novecento e le guerre globali erano globali non semplicemente perché si combattevano ovunque se fossero state globali solo per questo noi potremmo dire che anche noi oggi viviamo una specie di guerra globale ma non è così le guerre globali erano globali tanto per cominciare perché i protagonisti che le combattevano erano ovunque gli stessi perché la posta in gioco era ovunque la stessa e perché l'esito sarebbe stato ovunque la stessa nella seconda guerra mondiale non si poteva vincere sul fronte orientale e perdere sul fronte occidentale si vinceva o si perdeva da una parte e dall'altra insieme nell'attuale contesto storico noi abbiamo una serie di guerre che sebbene si presentino nello stesso momento hanno protagonisti diversi posti in gioco diversi avranno anche esiti diversi in questo senso non credo che sia corretto parlare di globalità due cose prima di passare al linguaggio il modello neoliberista il modello neoliberista faceva parte naturalmente della grande architettura dell'ordine internazionale degli anni 90 oggi per la verità noi abbiamo nella attrattività di questo modello degli elementi molto più problematici diversi studiosi americani persino diversi economisti americani allo scopio della crisi del 2007 e del 2008 si sono preoccupati del contraccolpo in termini di legittimità della crisi economico-finanziale dicendo questa crisi non è soltanto un problema economico questa crisi è anche un problema politico perché questa crisi mette in dubbio la legittimità l'esclusività l'efficacia del modello che abbiamo promosso negli ultimi 15 anni e non è un caso che negli ultimi 5-10 anni ci sono state proposte alternative di sviluppo economico in modo particolare proprio la proposta della CIN sull'Europa non lo so non so se gli Stati Uniti abbiano particolari interessi a un'Europa debole hanno interesse a un'Europa non troppo forte su questo non ci sono dubbi ma non credo affatto che abbiano l'interesse ad un'Europa debole perché la preoccupazione fondamentale degli Stati Uniti penso all'amministrazione di Barack Obama ma anche la nuova amministrazione qualunque sia si dovrà porre lo stesso problema il problema fondamentale degli Stati Uniti è mantenere la propria egemonia economicamente diplomaticamente e militarmente sostenibile gli Stati Uniti sono consapevoli che il loro livello attuale di impegni non è sostenibile che le risorse di cui dispongono per quanto esorbitanti non sono sufficienti a reggere il peso di tutti questi impegni e uno dei modi prevalenti per cercare di superare il problema è quello di redistribuire i carichi con gli alleati questa è stata la politica di Barack Obama Barack Obama ha cercato disperatamente di chiedere agli alleati di fare di più affinché l'America facesse un po' di meno e un'Europa in crisi da questo punto di vista per gli Stati Uniti è un terribile problema perché i paesi europei oggi non possono dare di più agli americani proprio in un momento in cui gli americani ne avrebbero più bisogno la decisione la decisione di tutti i governi europei di tagliare le proprie spese per la difesa ad esempio è stata vista dagli Stati Uniti come una catastrofe sul riguardo allora anche su questo non vorrei scusami Riti ha chiesto anche un parere rapido sul trattato di scambio euroamericano di cui si parla pochissimo sì allora quel trattato tanto per cominciare va visto insieme all'altro ed è un tentativo anche molto sofisticato di rilanciare la centralità geopolitica e geoeconomica degli Stati Uniti gli Stati Uniti stanno contemporaneamente trattando per un trattato di libero scambio sul Pacifico e un trattato di libero scambio sull'Atlantica quello che avrebbero in comune questi due trattati è per l'appunto la posizione degli Stati Uniti come hub economico allora il negoziato è molto complicato su tutti i due versanti sul versante Pacifico naturalmente perché è da valutare la posizione della Cina che non vede con favore naturalmente questa costruzione e sul versante atlantico perché in questo momento tutti hanno paura di perderci si diceva lo dicevano molti studiosi delle relazioni internazionali che nelle relazioni economiche tra democrazie di mercato i vantaggi assoluti contano i vantaggi relativi non si calcolano più in altre parole si coopera quando si immagina di avere qualcosa da guadagnare senza preoccuparsi del fatto che noi guadagniamo meno degli altri niente di più falso si continua a pensare i vantaggi relativi ed è una delle ragioni fondamentali per le quali il negoziato sul trattato libero scambio dell'atlantico sarà complicatissimo la prima cosa che tutti si stanno chiedendo dalla Germania all'Italia agli Stati Uniti quanto abbiamo da guadagnare e quanto abbiamo da perdere tuttavia già il fatto del negoziato ci dice una cosa molto importante che ci collega a quello che dicevo prima io gli Stati Uniti sono nonostante quello che è stato detto un po' buffamente all'epoca delle polemiche contro le amministrazioni George Bush sono un paese tradizionalmente amico del multilateralismo tutte le grandi istituzioni multilaterali di cui disponiamo oggi sono state fondamentalmente delle creazioni americane ma il multilateralismo americano degli anni 40 e degli anni 50 era un multilateralismo che pensava in termini universali la Banca Mondiale Fondo Monetario Internazionale le Nazioni Unite oggi gli Stati Uniti anche quando praticano il multilateralismo non lo vedono più come multilateralismo universale e quindi già il fatto solo dei due negoziati la dice lunga su quanto si sia incrinato il tessuto universale delle istituzioni internazionali nel momento in cui stiamo ripensando al ruolo delle istituzioni ripensiamo al ruolo di istituzioni che non sono più universali ma che sono regionali o macro-regionali sarebbero altre cose da aggiungere sul linguaggio sul linguaggio sul linguaggio sul linguaggio non non vorrei avere dato un'impressione troppo rigida allora non tutte le crisi danno gli stessi risultati sia in termini politici sia in termini di capacità di linguaggio ci sono delle crisi delle grandi crisi del passato che hanno prodotto in realtà o che si sono innestate più che hanno prodotto su una disponibilità di nuovi linguaggi in grado di reinterpretare il politico pensiamo però appunto alla crisi che accompagna la prima guerra mondiale nell'immediato dopo guerra si cerca di riprendere le fila del mondo prebellico ma riprendere le fila del mondo prebellico è diventato sostanzialmente impossibile le vecchie classi dirigenti appaiono immediatamente come le classi dirigenti di un secolo prima se non che in quel momento c'erano dei linguaggi disponibili come se c'erano linguaggi disponibili è quello che rende affascinante il periodo infrabbellico ma il periodo infrabbellico è un pieno di linguaggi non casualmente di linguaggi che investono la sfera politica la sfera artistica la sfera letteraria è un periodo straordinario dal punto di vista culturale e dal punto di vista politico poi ci sono contesti come il nostro nel quale la crisi avviene in un vuoto totale di linguaggi e quindi non tutte le crisi avvengono ancora una volta il confronto con la storia la storia non ci dice le continuità ci dice le differenze il vostro collega diceva leggendo un articolo sul Corriere non credo di averlo letto ma anzi sicuramente non l'ho letto ma ci sono conflitti sociali ci sono conflitti sociali in Italia ci sono conflitti sociali negli altri paesi europei ci sono conflitti sociali basta pensare a queste ore negli Stati Uniti ma c'è una differenza fondamentale tra questi conflitti sociali e i conflitti sociali per esempio dei Novecenti e questi conflitti sociali si esauriscono dove nascono non si collegano più non si connettono più non c'è una capacità di scambio non c'è una capacità di circolazione non solo tra una regione e l'altra non solo tra un paese e l'altro ma persino all'interno dello stesso paese i cosiddetti conflitti nelle periferie non si attaccano ai conflitti nelle fabbriche i conflitti nelle fabbriche non si attaccano ad altri conflitti in altre parole noi abbiamo una proliferazione di conflitti che parlano un linguaggio che è un linguaggio quasi autistico e qui c'è anche la differenza tra il pensiero istituzionale e questi conflitti che non parlano questa è la situazione a me sembra almeno che sono delle giaccherine sì sono delle giaccherine sono delle giaccherine sono delle giaccherine cioè sono sono dei conflitti che non hanno più per esempio l'aggancio che aveva invece il conflitto rivoluzionario con una qualche filosofia della storia o con una qualche progetto di trasformazione qui non c'è nulla da trasformare o per meglio dire ci sarebbero molte cose da trasformare ma non c'è una direzione non c'è una ma anche una capacità simbolica perché poi nella sfera politica la capacità simbolica conta ecco la collega diceva la nostra collega che è necessario pensare alla complessità è necessario pensare alla complessità ma semplificare chi vuole fare politica non si sogni di riprodurre la complessità il pensiero politico è un pensiero semplice o per meglio dire è un pensiero complesso che sa esprimersi in termini semplici se voi volete fare politica dovete dividere dovete avere una capacità di divisione che significa anche una capacità di sacrificio voi vedete molte più cose di quelle che potete esprimere politicamente è la ragione per la quale i partiti degli intellettuali normalmente non vanno mai oltre lo 0,5 o lo 6% perché non è così che si fa politica la politica la fanno quelli che sono capaci di semplificare di dividere di dire che il mondo è diviso in due parti e basta il rapporto tra il pensiero istituzionale e il pensiero pensiero il linguaggio perché c'è anche qui naturalmente un linguaggio di queste jacquere il pensiero istituzionale è condannato alla ripetizione ma non è casuale perché è chi è più socializzato al pensiero dominante che paradossalmente è meno capace di liberarsi è la ragione per la quale nelle grandi fasi di trasformazione spesso gli intellettuali sono gli ultimi a capire parlo contro di me parlo contro di noi è la ragione per la quale nelle grandi fasi di trasformazione le università sono l'ultimo luogo nel quale si capisce la trasformazione e più che altro si cerca di combattere non farmi stare oltre e non è affatto casuale che la rivolta sociale le piccole rivolte sociali perché parliamo almeno fino adesso di piccole rivolte sociali avvengano i luoghi anche linguisticamente periferici io non mi stupisco affatto che lo sconto sociale avvenga non semplicemente nelle periferie delle città ma nelle periferie to cool cioè laddove il pensiero dominante non circola non è sufficientemente interiorizzato laddove c'è spazio per pensare diversamente o non pensare affatto perché è meglio non pensare attraverso le categorie dominanti piuttosto che riprodurle quando non servono più a niente beh tu non rincoraggiare a non pensare no no pensare va bene insomma allora facciamo un secondo giro io rinuncio per ora alla mia osservazione mi confronto comincio a prendere no io poi farò un giro per sollecitare anche i timidi cioè quelli che io so che vorrebbero intervenire ma che non stanno più bene i re intervenenti dopo eh che qui già lo stiamo sparmenduto io voglio sapere la sua opinione sullo stato dell'alleanza BRICS nel senso esiste primo la vede più come supporto diciamo alla posizione da contrattare della Cina o può essere il sintomo che sistemi regionali anche separati lontani fra di loro possono comunque avere un collegamento almeno istituzionale ecco no in particolare immagino tu pensi alla banca per quanto riguarda la questione concreta lei pensa che sia possibile uno scontro diretto fra la Russia e la Nato e se deve essere possibile se può sfociarsi in una guerra globale Giovanni io volevo sapere se i populismi cioè non sono anche la ripetizione e la richiusura dei linguaggi dominanti cioè perché in Italia hanno successo e se la disaffezione alla vita politica è una causa o una conseguenza della crisi Gianluca sì nel libro lei parla molto di come appunto si utilizzano metafore e analogie storiche per spiegare la situazione attuale e volevo chiederle come è possibile evitare che il rischio di rappresentare nello stesso modo e quindi di comportarsi in modo uguale opposto in base al punto guerra che comunque è una nuova guerra o conflitti o anche questioni che non ha parte di conti guardare già Giovanni Pastori volevo chiedere per cosa suono use in better use at better c'è la definizione perché cosa suono grazie Stefano D'Ami si vede che non hai letto il libro sulla guerra per soffrono io voglio sapere se il problema della crisi attuale globale non si ha da constatare a peore ovvero nell'estensione di un modello di democrazia di universalità prettamente occidentale e statunitense in tutte le zone geografiche del mondo quindi non un'idea reale di democrazia ma un'estensione di un modello culturale ideologico politico di pochi su tanti giuria gerosa io volevo chiedere che ha risvolto il servizio ha risvolto la sostituzione fatta del capo dell'Italia fatta dopo una recente nella situazione in una situazione da cultura Andrea Mineggio io volevo chiedere è vero che non bisogna fare una legge storica però si dice che nell'ultima crisi di sovrapposizione il 29 all'inizio del 900 l'anno dell'inizio del 1800 si spocciano tutte in una guerra aperta con una forza di armamenti e nella crisi attuale cosa è? io ho detto io Simone Filippini a questo punto fai la seconda anche Tommaso questo qui è il suo nome ma è proprio ad abusare anche lui sta facendo la seconda allora nel libro lei parla di un continuo conflitto tra dinamiche interne e dinamiche esterne allo Stato ma l'Unione Europea è nata come diciamo garanti tra questa separazione cioè per riaffermare lo Stato sovrano oppure non riesce o non riuscirà in un futuro a continuare a tenere distinte queste due cose ultimissima che sono le dieci ed è già un stop se se questo stato di relativo benessere dei paesi per esempio come l'Italia costa in qualche modo agginare dei movimenti populisti che però non sfociano in delle specie di come dire del rivolto comunque di movimenti progressivi cioè se appunto questo benessere il fatto di non essere in una situazione proprio critica per esempio di andare a casa o essere in grandi difficoltà possa evitare questo o fino a quando può evitarlo Pagli in contatto? No anche questa volta è un po' complesso a colpare nessuna domanda per cui sarà una cosa molto impressionistica spero una buoniosa comincio sulle cose più puntuali allora i BRICS i BRICS in realtà non sono un'alleanza sono un tentativo di mettere insieme paesi in ascesa che oltretutto sono in ascesa molto diversa tra loro c'è molto poco in comune tra l'ascesa della Cina e la posizione della Russia la Cina è un paese che cresce la Russia è un paese che declina già questo crea una profonda differenza perché la percezione del proprio paese come un paese in ascesa come un paese in declino cambia totalmente il modo in cui viene rappresentato il sistema internazionale per di più sono paesi che hanno esigenze economiche diverse sono paesi che spesso anche hanno conflitti politici tra loro pensiamo all'India alla Cina pensiamo alla stessa Cina alla stessa Russia allora l'unico interesse che hanno questi paesi è a riequilibrare il sistema ma non credo che sia un interesse sufficiente a fare sì che i BRICS si trasformino in un progetto o addirittura in un'alleanza coerente non credo affatto sull'Ucraina io sono molto pessimista su quello che sta avvenendo e su quello che avverrà in Ucraina l'unica cosa sulla quale sono ragionamento ottimista è il fatto che non penso affatto che ci sarà uno scontro diretto tra la Nato e la Federazione russa per mille ragioni tanto per cominciare noi non abbiamo alcun sentore di nuove guerre fredde la nostra è una condizione totalmente diversa da quella della guerra fredda penso anzi che la crisi Ucraina per certi versi questa è una delle ragioni di preoccupazione la crisi Ucraina è funzionale sia alla Russia di Putin sia alla Nato perché la crisi riaggrega naturalmente la crisi rita identità la crisi rita ragion d'essere questo vale sia per la Russia di Putin che era relativamente in crisi all'interno della Federazione Russia sia soprattutto per la Nato che dopo l'esaurimento della missione in Afghanistan si trova sostanzialmente a non avere nulla da fare che è la peggiore delle condizioni possibili per una realizzabilità allora questa è una delle ragioni per le quali temo che la crisi duri ma è anche una ragione non sufficiente a pensare che la crisi possa sfociare in uno scontro militare diretto non sarebbe nell'interesse di nessuno anzi tutte e due le parti sono molto attenti a evitare qualunque rischio è chiaro che una situazione di questo tipo è una situazione nella quale l'incidente può avvenire il resto su questi aspetti più puntuali ius abbello ma ius in bello su questo rischerei di fare una lezione ma dico molto brevemente di che cosa si tratta allora quando noi cerchiamo di limitare la violenza e tutte le società umane hanno cercato di limitare la violenza noi dobbiamo fare almeno tre cose con riferimento alla guerra ma anche con riferimento alla violenza in generale la prima cosa è quella che è per l'appunto iscritta nella nozione di ius ad bellum e cioè dobbiamo definire in anticipo quali sono le condizioni alle quali il ricorso all'uso della forza è legito e quindi fuori delle quali il ricorso all'uso della forza non è legito le norme dello ius ad bellum rispondono a questa prima domanda quando è legittimo ricorrere all'uso della forza e quindi quando non è legittimo fare seconda domanda ius in bello che cosa è lecito fare una volta che si ricorre all'uso della forza e quindi ancora più importante che cosa non è mai lecito fare terza domanda che è implicita nella differenza tra ius al bellum e ius in bello che cosa è bellum cioè che cosa è la guerra dopo aver risposto o per meglio dire prima di avere risposto alla domanda quando è legito farla e che cosa è legito fare in guerra dobbiamo sapere che cosa è la guerra ed è la ragione per la quale come vi dicevo all'inizio non sapere oggi dove è la distinzione chiara tra pace e guerra significa non sapere la cosa fondamentale che ci consente di avere l'ordine internazionale la sostituzione l'ennesima sostituzione della compagine di Barack Obama non servirà o per meglio dire serve a dirci una cosa che sapevamo già e cioè che la politica estramericana sta vivendo una fase di panico cognitivo che si esprime in una continua oscillazione sulle politiche in tutte le dimensioni fondamentali questo non vale soltanto per Barack Obama se voi pensate al passaggio dal primo al secondo mandato dell'amministrazione Bush avviene esattamente lo stesso Bush smantella la sua amministrazione dopo i primi 4 anni nel riconoscimento che il primo mandato era andato malissimo il secondo mandato era andato male e devo dire la politica estera di Barack Obama fino ad adesso non ha ottenuto nessuno dei risultati che si era proposto quindi è una specie di calvario e come sempre nei calvari di questo tipo si cerca continuamente nuove soluzioni e cercare nuove soluzioni significa anche cercare continuamente nuovi capi espiatori questo credo che sia l'unico messaggio che ci dà questo nuovo cambiamento che poi ha una serie di altri risultati che non abbiamo tempo di affrontare scusate scusatemi se dimentico qualche cosa se la crisi se la crisi un prodotto del tentativo maldestro per non dire peggio di esportare un modello che è fondamentalmente occidentale in contesti istituzionali culturali geografici diversi dal nostro ma in parte sì ma soltanto in parte perché il grosso della crisi in questo momento è da noi il grosso della crisi non sta tanto in una difficoltà di traduzione ma proprio in una difficoltà del linguaggio che è stato tradotto noi viviamo una enorme crisi istituzionale una enorme crisi politica una enorme crisi economica e sociale in Europa e per certi versi anche negli stessi Stati Uniti naturalmente in Giappone cioè in tutti quei paesi che all'inizio degli anni 90 venivano rappresentati come i protagonisti sicuri del 21esimo secolo quando all'inizio degli anni 90 era una cosa come diceva vera ma si pensava a quali sarebbero stati i protagonisti del 21esimo secolo ma non si pensava affatto alla Cina la Cina non lo nominava nessuno nel 1991 meno che mai l'India meno che mai il Brasil si pensava agli Stati Uniti si pensava all'Unione Europea e si pensava al Giappone allora la crisi ha investito proprio quelli che avrebbero dovuto essere i pilastri del nuovo ordine internazionale da questo punto di vista la crisi o anche da questo punto di vista la crisi è così profonda perché la crisi non ha colpito le aree periferiche dei sistemi internazionali la crisi è in questo centro e qui andiamo ai populismi allora tanto per cominciare io vi suggerirei di usare con estrema cautela a questo punto la nozione di populismo la nozione di populismo è diventata come altre nozioni in passato una sorta di clava non è più un progetto teore come clava si usa la nozione di populismo per denotare la Lega Nord il Movimento 5 Stelle Tsipras Allianz für Deutschland partiti diversissimi tra loro con culture politiche diversissime con stili politici diversissimi ecco quando una categoria viene sovraestesa fino al punto da mettere insieme cose così diverse io mi chiedo se quella categoria sia ancora utilizzabile oppure no o quantomeno a quale condizione può essere ancora utilizzata il populismo è al di là delle diverse forme sempre ammesso che abbiamo ancora senso parlare o usare questa parola il populismo è chiaro che è una risposta non è la causa della crisi il populismo come l'astensionismo che sono due cose totalmente diverse il populismo e l'astensionismo sono una risposta una risposta sicuramente non strutturata dal punto di vista del linguaggio ma una risposta alla caduta di comunicazione politica alla caduta della rappresentanza questo è il nostro problema questo è un problema che è stato clamorosamente trascorato negli ultimi anni io parlo anche della scienza politica parlo della politica comparata parlo degli infiniti studiosi che studiano Unione Europea allora i studiosi che studiano Unione Europea erano gli unici esseri umani in Europa a non riconoscere che l'Europa viveva una crisi di rappresentanza abissale allora una crisi della rappresentanza può essere tollerata nei momenti normali ma nei momenti di crisi la crisi di rappresentanza finisce per produrre esattamente quello che sta producendo oggi e l'altra cosa sulla quale dobbiamo smetterla di considerare l'Italia come un paese più malato degli altri noi siamo più malati per certi versi ma non in tutto il populismo non è un prodotto italiano i populismi degli altri paesi sono spesso molto più diffusi e molto più inquietanti del nostro populismo ma confrontiamoci davvero con gli altri paesi cioè andiamo a vedere che deriva sta prendendo la crisi della rappresentanza non soltanto in Francia non soltanto nei paesi più vicini ma andiamo anche negli amatissimi paesi del nord Europa andiamo a vedere che cosa sta accadendo in Regno Unito noi saremo pure patologici ma non siamo così patologici o se siamo patologici noi viviamo in un manicomio continentale su questo credo che dobbiamo anche essere cauti perché una delle forme della patologia italiana è pensare che fuori di questo paese i problemi non esistano guardatevi a un po' di internazionalizzazione ma leggetevi i quotidiani degli altri paesi su online tutte le mattine vi guardate gli articoli dedicati alle stesse cose delle quali ci lamentiamo noi compresa la scuola e l'università sui giornali tedeschi su quelli francesi su quelli inglesi ci perdete mezz'ora leggete un articolo due articoli per giornata su ciascuno di questi giornali e vedrete che noi abbiamo un po' di storie e confrontarsi con gli altri non significa naturalmente scoprire che noi siamo uguali ma significa scoprire in che cosa siamo diversi non in tutto non c'è un solo fenomeno nella realtà che è diverso in tutto da tutti gli altri allora l'Italia ha le proprie anomalie ha le proprie specificità ma noi viviamo all'interno per l'appunto di una crisi generale che non è una crisi italiana è una crisi generale va beh ti ringraziamo grazie a tutti allora grazie io rinuncio a fare la mia osservazione però propongo abusando indegnamente della sua disponibilità mi propongo una cosa quello che avrei voluto dirti lo trasformo in una lettera aperta che ti mando e che pubblico sul mio blog a fare grazie lei aggiungere una tua risposta avete visto come contento? va bene grazie 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 grazie